Siamo in compagnia del tecnico del Borgo Gianluca Baratta alla vigilia della partita in casa del Seravezza. Mister, le ultime due sconfitte possono pesare mentalmente sulla partita di domani? Speriamo di no, anche perché noi sappiamo fin dall'inizio qual è il nostro obiettivo. La classifica ci dice che l'obiettivo che ci siamo prefissi è comunque a portata di mano. No, non penso, non penso. L'importante è che ci sia la giusta consapevolezza e la giusta consapevolezza ci sarà. Da questa settimana si sono aggregati a noi due ragazzi giovani, quindi abbiamo forze nuove da mettere eventualmente a partita in corso, quindi siamo fiduciosi. Quanto è stato importante poter tornarsi ad allenare per una settimana intera dopo tanti impegni ravvicinati? È importantissimo, anche perché noi abbiamo una rosa corta, molto corta e quindi giocano un pochettino sempre i soliti, abbiamo poche alternative. I due ragazzi che sono arrivati in settimana ci offriranno alternative importanti e utili soprattutto e anche per fare i fiatacchi a sempre giocato. Parlando appunto di formazione, cosa dobbiamo attenderci per la partita di domani? I due ragazzi non sono utilizzabili perché vengono in un periodo di inattività, cioè si sono allenati per loro conto, ma allenarsi con la squadra è tutta un'altra cosa. Non ci saranno grandi novità, noi siamo quelli. Probabilmente ci sarà l'ingresso, l'utilizzo dall'inizio di Lancellotti, un ragazzo che speriamo ci possa dare una mano perché ha le qualità per farlo, assieme probabilmente a Caniparoli e Salami davanti. Vediamo in mezzo, in mezzo non avremo Porcari, non avremo Rossi, non avremo Zambruno, non avremo Baldini, quindi in mezzo ci sarà da inventarci qualcosa, vediamo se riproporre SOM come Domenico oppure dare spazio e amore. Questi sono gli unici dubbi che abbiamo. Cosa bisognerà temere maggiormente del Seravezza? Seravezza è una squadra organizzata, giocano 5-3-2, ma un 5-3-2 molto propositivo, fanno questo campionato da 5-6 stagioni, hanno uno zoccolo duro della squadra che sono costituito da ragazzi che sono lì da un po' di tempo, una squadra che è partita bene, una squadra di categoria. Siamo una partita impegnativa, ma come tutte, dipenderà da noi, dobbiamo pensare a noi più che agli altri. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.